Cazzeggio per 20 minuti L'avevo lasciato un po' nel dimenticatorio come stavo dicendo perché Vabbè ultimamente mi stavo dedicando più al co-op diciamo Lo so, vorrei registrare anch'io più co-op Però non è possibile perché non abbiamo i stessi giorni per poter registrare io e Fabrizio Quindi mettersi d'accordo non è molto facile Comunque capiteci che viviamo dentro casa insieme Oppure si chi lo può dire No non viene dentro casa mia Un nemico Ucciso Siamo liberi Siamo un paese libero adesso Eeeh Poi Eeeh Che altro vedo di? Eh come sto Ciao Dugo si è da tipo Già mi sono scordato tutte e due Ma che ho cominciato il video Vabbè se poi mi arrivi in mente Ve lo dico se no Ci c'è alcuno Come si dice a Roma Allora Strano ma non c'è nessuno qui Eeeh Veramente strano Di solito c'è tutta getta a capperare Dove siete? No non c'è nessuno Allora Questa mappa mi sa Che l'ho già fatto in un video Ho fatto il bordello Se mi replico un'altra volta Veramente mi fomento Perché comunque Dicevo Non sono un veterano Di Battlefield Anzi Sono proprio una pippa Famoso a capire Eeeh Per chi mi conosce Sa che io Cioè Tra Battlefield E Call of Duty Non c'ho un preferito Però Ho giocato di più a Call of Duty Lo devo dire E quest'anno ancora Non ho comprato costume Vedo quando sarà Scontato A un prezzo decente Perché 70 euro Eeeh Eh me lo mettono Sarebbe Mettemelo al culo Farselo mettere Al culo Poi vabbè Se siete appassionati Appassionati Sfegatati Che cosa ho detto due volte Appassionati Se siete sfegatati Eeeh Ovvio che lo prendete Quindi Però comunque 70 euro Secondo me Sono esagerati Ma non solo Secondo Oh ma questo che sta a fare Capi i cazzi Non ho capito Lancia i granati Dentro casa Sempre te Guardate Mister Cappelli Ehi Cappelli E chies Ovviamente Non andate a pensare male Ma perché Se dovevi chiamare così Agente Io dico Allora Mister Cappelli C'ho lancia granate Me l'avevo scordato Non ci gioco quasi mai Però Quando ci gioco Ma se mira Eh no L'avevo ammazzato Mamma mia Cioè Questi qua usano i yak Cioè L'avevo preso Era morto Solamente che Non gli ho tolto niente No scherzo Mi piace incazzare me Con me stesso Perché A volte c'ho la mira Al culo Mamma mia Se stava in filtro ai camper Allora Dai 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 Ultimo uomo in squadra Sono stati tutti Tutti espursi Rimango solo io Ammazzo io Sè Non mi rubate i kill eh Finito il primo tempo Ma come il primo tempo Oddio se c'ha orcecchino Devo attivare Devo cambiare radio di fuoco Ma i mortash Che riflessi da gatto felino Io gatto addormentato Prima che me ne accorgo Passa mezz'ora Ti votevano un cazzotto Boom Da mezz'ora Aia Vabbè E ti fanno Oh ma sei proprio a scoppio ritardato E vabbè Ti ha ammazzato Oh rianimo 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 Ce l'ho di febbrillatore Non ce l'ho Può essere pure che ce l'ho Pessoalmente Che non me l'ha di cercarlo Ho capito ma Tutti accampano per me Vabbè che Ormai Mi amano Cioè volevano proprio ammazzarmi Non ho capito Stavano in due Con la capocetta di fuori Esci Esci Boom Morto Stavano aspetto solo a me Non vedevano l'ora Allora Chi c'è sta qua Eccolo là In realtà prima Che dovevo cambiare La radio di fuoco Ho detto Oh mi sono scordato In verità In verità Non me In verità Headshot In verità Non mi ricordo Poi portanto Sto per cambiarlo Dopo vado a controllare Accetta 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 Eh mann'amazzato Eh 34 De salute 34 De salute Ma guardate Sto Sto sculato Eh 9 9 6 Un po' Schifo No Non si ammazza Quello Si è andato a copri C'ha freddo Oddio Pazzo cecchino Doppia E sedamo Di solito Quando so tutto rosso Io E Tipo In genere Su Call of Duty Quando ti sparano Rimani in vita Per miracolo Ecco Questo C'ha la mira Non si sa chi Quando rimango in vita O so accecato Da me stesso Poi Con la bomba accecante Ma acceco da Da solo 90% Quindi Quando Non ci vedo niente Mi sdraio Mi sdraio per terra E spero che non mi ammazzano 90% E mi salvo Intanto dopo Due secondi dopo Mi arriva una granada Boom Morto Dopo così A random A buffo Qua dentro ci sta Aperitivo Perché è pieno E gente Ammazzato Su E il cecchino E il cecchino Non muore 5 di vita Ma ti ho scaricato Un caricatore addosso Non posso urlare Perché è tardi Ma li mortoci Tu Ho sempre quello Dei cappelle Ma io dico Ma non è che i cecchini C'hanno più vita Ma guardate No Abbiamo perso A noi Inti cinesi Russia contro Cina Vincono i cinesi Abbiamo fatto La scoperta Cioè veramente Con 5 di salute 5 di salute Cioè Allora vediamo Un po' Inizio di operazione Non ho 44 secondi Prima è caicata La mappa Fugili assalto Armi da difesa personale Ergonomi Nastri 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 E che ce fai con assi? Te ci pulisci Oh dai Se scherzo ovviamente 13 8 Si ammazzato Cecchino Era 14 Eh Guardate Che Che palle Mamma mia Come cazzo fa Sto avvato Con 5 tira Ma Io ce rosico Queste cose Perché comunque Cioè Rosicavo ancora di più Se mi scriveva in chat Ha I kill you Allora Allora gli partiva un Va V A F F Angul Vafangul Come faceva Aldo Gialdo Giovanni e Giavo Oddio Operazione Prigione Io veramente Non becco mai Sta mappa Inizio a registrare Esce Operazione Prigione Io veramente Non so Che La odio Però Vabbè C'ha neve Quindi Quindi c'ha neve No vabbè Mo Parlamo tanto De neve Perché Con tutte Le tragedie Tra Schumacher E Altra gente Che ci muore Porracci Sta veramente In dramma A forza Da natura Mamma mia Ste riflessioni Alle Undici e mezza Di notte Come Come me escono Allora Ogni nemico Liminato Viene commenteggiato Come un'incisione Ma va Capitan Ovvio C'abbiamo Vince lo squadrone Con più incisione No Pensavo Che vinceva lo squadrone Che Che moria più volte Mamma mia Ce lo scrivono pure Perché Può succedere Che c'è gente Che non lo sa Che è veramente Oh Ucciso uno Oddio Abbiamo guadagnato un punto Perché l'ho ucciso Mamma mia Che figata Sto gioco C'è Se guadagna punti Quando uccidi E poi vince pure la squadra Con più uccisioni Pensate Allora Mamma mia 8 ore Per caricare Una mappa Ammata Boh Allora Barili Fammo esponere tutti Dopo Poi che c'è St'Asticelle Ce l'ho sempre pensato Io poi Non so perché Pensieri Da piccolo Lo pensavo Pure adesso Ogni tanto Mi capita Anzi quasi Tipo un paracadutista Che si è paracaduta Paracaduta Su un'antenna Che gli si è conficca In mezzo allo stomaco Pensate che l'ho iniziata Dopo un film Perché C'era sta scena Che appunto Un paracadutista Se lanciava E invece che atterra Sul tetto Atterra Sull'antenna Ma te pensa Allora L'intelligenza Ci ha avuto un'intelligenza Spettacolare Poi gli si è bucato Vabbè Non ne parlavo Che fa abbastanza schifo Giusto per perdere Un po' di tempo Mentre carica Sta mappa Ce l'abbiamo fatta? No Non ce l'abbiamo fatta Massimo Male che va Taglio un pezzettino Di video E ci vediamo dopo Quando comincia la partita Se no Aspettiamo Stato tempo Che manca Ecco appunto Mancavo Manco ho parlato Bastava Diciamo un po' Spronarla E si è mossa Mamma mia Ci ha detto culo Sao peggio Ok Aspettate Questo è morto Strono Creta Oh Faccio il camper Granata Si pone da sinistra Quarta Quanti Tre Quattro Erano già pronti In quattro Ecco il quinto Tutti pronti Per me Certo Sono spawn nemico Io sto Una fortuna Maledetta Ho avuto Allora io so Cattivo E chiude Cascelle Qua non passa Più nessuno Si siamo levati Dalle Dai zebidei Allora Oddio Mi sono abbassato Stavo a far prova Ho sbagliato Ho sbagliato Tasto Tasto Della tastiera Mi sono abbassato Manca me l'ho fatta apposta Si è ammazzato Quanto esultavo Non lo può manco Saper lui Allora andiamo Di MX4 È figo pronunciare Il nome delle armi MX4 Scaracca Fall Un cacciatore Si è buttato per terra Ma l'arbitro Fischia fall Ok Basta di cazzo Oddio Non si poteva sentire Come battuta Perché era una battuta Ovviamente Allora ragazzi Rieccomi Allora vi chiedo scusa A mo' Direte Ma che cazzo è successo È cambiata la mappa Da un punto all'altro In pratica è successo Che mi ha crashato il gioco E Il gioco E internet Cioè Contemporaneamente Cioè Sono così Cioè 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 Troppe volte c'è Si saranno dati appuntamento Per crashare Vabbè A me non Non stavo a fare Diciamo Sto punteggione Di fiamo Da potermi incazzare Quindi È accettabile E in pratica È successo È successo Che mi ha crashato Quindi Stavo cercando la mappa Di prima Sempre con la nevata Solamente non l'ho trovato Poi ho detto Vabbè scusa Ho fatto 200 volte Già l'ho fatta in un video Cambiamo mappa Famo Questo che mi sa pure Questo abbiamo fatto Solamente Che mo Mo si è diventata Mezzanotte e mezza E mezzanotte e mezza Non c'è tantissima gente Che gioca Quindi si accontentammo Vi chiedo scusa Io però Ci posso fare niente Ci posso fare niente Amori Mamma mia Ti ho salvato Infatti mi chiamavano Salvatore No non è vero Oh Crepa Mamma mia Ho ucciso prima io Quindi C'ho più riflessi Di quello Sta messo male Allora Se c'ho più riflessi Io di lui Allora Dove stanno Dove stanno Allora Cosa La voce ha detto Finito il primo tempo Loro sono nella merda Quindi Stavo messi bene In poche parole Ok Esci da sotto Non capito Da dove mi aveva ammazzato Vabbè Le talpe So come le talpe Che escono da sotto Tu col martelletto sopra E devi schiacciare la capoccia Allora però No vabbè Dai Continuiamo a schiacciare la capoccia Se fa male Male che va Cambiamo arma Do state? Io chiudevo Oddio Perché pensavo che era il nemico Dove siete? Dove siete? Dove siete? Qua non c'è nessuno Che bello C'è la minimappa I conti dei didostati Stanno qua su Andiamo va Devi morire Se devi morire Mori Se non è arrivato il tuo momento Allora non muori E rimani con 5 HP Come prima Do stanno? E dai Volevi fare Tanto Ecco un'altra Volevi fare Ad arpa 2 Vendetta Ecco un altro Passare dietro Mamma mia Ma come mi chiamano? Ma che cazzo Ma sono passati a me da dietro Oh 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 Ma me rendico No 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 Tocca Ragazzi è sparito quello Dannato Oddio Mi ero fomentato e non uscìo più a farla No è sparito Le punte in bianco Non uso Ok Devo ammazzarlo E siamo morti Vabbè Già che ci hanno rianimato È miracolo Ma poi Porca miseria Con lancia Gli ho tirato Una granata addosso Con lancia granate No guarda Con lancia Con lancia Puffi Vabbè La stessa cosa Lancia Puffi De Mode Warfare 2 E non è morto Attiviamo roba buffo Vai 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 Siamo Siamo troppo Trascressivi Abbiamo attivato qualcosa Diamoci Scappiamo Tipo quando Citofoni La gente Scappa Scappa E ti metti a dire Chi non l'ha mai fatto Oh Sempre lo stesso Ammazza Hai capito C'ha lo stesso De quello De American Dead L'alieno Roger Dai Continuiamo Scarac Quanto stiamo a fare 7-4 Vabbè Dai 7-4 Basta che stiamo Rato positivo E va bene È finita la partita 7-22 Le ultime parole famose Ah c'è qualcuno Ma è troppo Lontano E con lo scaracca Preferisco Non usarlo In lontananza Perché Diciamo Oh 5 5 HP Ma Ma che davvero Davvero 5 HP Ma poi Mo me dici Da là stavano loro Stavano spawnando Tutti loro Ma tu che Cazzo camperi Là Fino a mo siete stati Solo voi Là E tu ti metti A camper Allà Ma mi sta a piaver Il culo Io veramente Non capisco Oh se mo ci Li vado E non crepa Esche Esci dal gioco Disinstalla E riporta E riporta A GameStop Non manco Mi ricordo Dove l'ho comprato Bam Bam No come assistenza uccisione La gente Mi ruba le kill Mi rianimano Quindi va benissimo Eh ma che palle Ma te fai I cazzi Con la granata Mamma Mi ha sparato addosso Mi ha ammazzato Con la granata Fuck logic Allora Dove 7-6 Ma perchè non mi sto zitto Quando parlo Allora Ah comunque fa Mo ve lo dico So più di 20 minuti Lo so Saranno molti Più di Non spero molti Molti Saranno un po' più di 20 minuti Perchè Ah Col fatto del crash Una cosa che nessuno si aspettava E dai Tre corpi Ma quello che è Quelli Sui detti La gente va sui travi Dei tetti Vabbè Dei tetti poi Del soffitto Il tetto dentro casa C'è Penso Sempre come sto messo Vabbè Capitemi Io registro tardi Queste sono le conseguenze Un attimo Mi ammazza Quello E poi Mi rompi Il cavolo Ma perchè Ma E' Mo sta 52 Se far figo Perchè ha ammazzato Io ancora Stor 6 Mamma Mi sto messo bene Eh Vabbè Ci gioco poco No Non è una buona Scusa Qua c'è Qua c'è Sta La bolgia Sta la bolgia Bella per te Camper Merda Oh 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 E' sparito E' sparito Eccolo Ah Pensavo di non averlo ammazzato Ma mi ha ammazzato un altro Se no questo ha ammazzato due corpi Io devo sparare un caricatore in capoccia Non lo so Vabbè che l'arma del nemico Se sa E' sempre più forte Però Regolamosi eh Davvero Ma che davvero Davvero Allora Dove sono finiti I nemici Non c'è più nessuno Guarda questi stanno tutti sul soffitto Sono sicuro O sotto terra O sotto terra o sul soffitto Sulla mappa normale Non c'è nessuno Ecco qua Mi sono salvato 4 HP Altro che 5 Mamma mia Io sono Un pro Un prosciutto Che palle Un medico non ci sta mai Ma sei tu un medico Oddio era bellissimo Se ero un medico Aspetta Non mi dico che c'è un kit medico Su questo No no Vaffanculo Mo dico proprio Me lo dedica a me un bel vaffanculo Ma perché Perché non mi sto zitto Cioè io sinceramente Manco c'avevo pensato C'avevo Il kit medico qua Che nabbo de merda Che so Oh mortacci tua Uno è entrato dentro casa E gli sparano un capaccia con un cecchino Guardate se è normale La gente Su Battlefield E vabbè E vabbè Vabbè M'hanno pure Rianimato Ma colpisci Quell'altro che mi ha rianimato Perché io sono penalinato Sono resuscitato E tu me devi ammazzare Sti pezzenti Ma guardate sti pezzenti Dai Stiamo Mancano una cinquantina Di uccisioni Siamo fomentati Non c'è tanta gente In questa partita La fine Pensavo peggio Oddio Quando sta io Eccola Passano di qua Mamma mia Che mira A culo Io tutto quello che può scoppiare Lo faccio esplodere Vabbè E Passo di qua Sarga le scale E ti vengo a ammazzare Famosi va Ecco Bubus è Eccolo Eccolo un altro No Ma vabbè Le cavolacce Tua Se sto ammazzando Genni I tuoi alleati Che infame Che sei Cioè Mi ha ammazzato da dietro Mi l'ha messo Al cul Come Come fa Sasha Io metto sempre al cul Ci sono 800 persone Che cazzo Mi sono bloccato Su un arbero Ma che cazzo C'è un arbero Là in mezzo Ma Ma scusate Eh E dai Però L'arbero là C'è dove sta Magari un giorno Mi salverà la vita Quello pezzo De corteccia Ma Adesso che stavo a morire Ma io non ci sto capendo niente Ammazzare la gente Basta che ammazzo E non muro Bella Mamma mia Sto a fare devasto Oh Merda Chi è che lancia i granate Mamma mia Da dietro Da dietro A dove C'era il nemico Segnalato da dietro È sparito No Dove non rispondere qua Mamma mia Sono ripreso 20-13 Mo faccio un'altra morte Almeno così faccio De fere forte Ma che Ma questo Da dove è uscito Accetta 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 Dove stamo C'è sta nessuno Qua Meno male Allora E Evitiamo di Passare sotto terra Che Ci sta Amborato De gente Andiamo sotto Mamma mia Ha fatto bianco È il nemico Sta sulle scale Cioè Stavamo tutti alleati Guarda Ammazza tutti Abbiamo vinto Miracolo Abbiamo vinto Abbiamo vinto Sono andato pure in positivo Ho fatto 14 morti Deve Morti Allora ragazzi Per questo video è tutto Se il video vi piace Lasciate un mi piace Se volete iscrivete al canale Se potete continuare Fate come mi pare Vi chiedo scusa Che è venuto più lungo di 20 minuti Penso Poi non so come è venuto E ci vediamo al prossimo video Ciao